Ciao a tutti, oggi vi proponiamo un allenamento un po' diverso, utilizzando uno strumento che avrete sicuramente già visto nei nostri video, che è la loop band. Allora, queste sono le loop band originali del nostro amico Andrea Varetto e sono in pratica degli elastici chiusi, quindi non hanno nessuna apertura, sono chiusi proprio per questo che si chiamano loop. Si possono usare per fare tantissimi esercizi e noi ve ne forniamo alcuni esempi, faremo un circuito con tre stazioni dove gli esercizi saranno combinati, quindi faremo sia la parte bassa, quindi impegneremo sia le gambe e i glutei che la parte alta, in particolare le spalle e le braccia. Faremo una decina di ripetizioni, anzi una ventina di ripetizioni, anche perché avremo una parte dove utilizzeremo soltanto una zona, quindi soltanto un lato del corpo, destra o sinistra e quindi andremo a fare 10 e 10, quindi poi per equilibrare dove saremo nell'utilizzo di tutto il corpo faremo 20 ripetizioni. Ok? A seconda, ecco una cosa importante, a seconda dello spessore e della resistenza abbiamo diversi colori, quindi potete usare a seconda del vostro grado di allenamento come al solito diversi tipi di loop band, addirittura quelle più leggere possono essere usate per il riscaldamento, quelle un pochino più pesanti, magari un pochino più resistenti per il core del training. Ok? A dopo! Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!